Buonasera a tutti, questa sera ci troviamo a Campana, in provincia di Cosenza. Bene, è giunto il momento di presentarvi i miei musicisti di fiducia, sulla mia destra alla chitarra Vincenzo De Virgilio, ancora sulla mia destra al basso Angelo Tundis, sulla mia sinistra alle tastiere Mattia Salemme, ancora sulla mia sinistra alle percussioni e alla batteria Daniele Perrone. Volevo dirvi di restare connessi sulla mia pagina Facebook Carmine Sanginetto per tutte le nuove news e restate connessi. Maestro, vogliamo aggiornare i nostri fans sulle nuove date, per esempio questa sera ci troviamo a Campana, in provincia di Cosenza, ma il nostro tour non verta solo nella provincia di Cosenza e in Calabria, ma anche in Basilicata o in altre zone, limitrofe alla nostra regione. Vogliamo dire dove siamo magari domani sera o nei prossimi appuntamenti? Certo, è bene che i nostri fan lo sappiano. Domani sera ci troviamo in provincia di Potenza, precisamente a San Severino Lucano, poi dopo domani ci troviamo a Rivello. Per scoprire le altre date, restate connessi sulla nostra pagina. Grazie.